Queste sono le regole, quello che era stato già detto in precedenza, le motivazioni per uno sciopero. Oggi a Palermo c'è stata la manifestazione, si è svolta anche lì, non tantissime persone, davanti all'assemblea regionale, poi la piazza è grande, si sono un po' persi con le stesse rivendicazioni, c'era anche qualche ragazzo, qualcuno delle scuole, però soprattutto per quanto riguarda la dispersione, ma anche questa nuova suddivisione delle scuole e degli insegnanti che non è piaciuta a molti. Però per esempio a Ragusa nell'ambito delle scuole non c'è stato un gran riscontro, anche però le scuole sono andate regolarmente in aula, i professori, insomma. Allora sentiamo l'altra componente di questo sciopero, d'Avola, della CISL che ci parla delle loro motivazioni, ma poi io gli faccio anche una domanda che riguarda la CISL, scusate, ho detto il nome della Will, riguarda la CISL. Vediamo.